Nonostante gli accordi di pace, nonostante le elezioni e nonostante il silenzio che è piombato ormai sulla vicenda congolese, in Congo si spara e si muore ancora. Milioni di persone sono ancora sfollati dentro il loro paese o esiliati nei paesi dintorni, le armi circolano ancora, le infrastrutture sono inesistenti, ma soprattutto la condizione più pesante è quella dei bambini, bambini come quelli che stanno nelle nostre case che purtroppo lì ne vanno a scuola, ne hanno di che sfamarsi, ne hanno dove dormire, dovendo anche subire le esazioni degli adulti. Vogliamo ritornare a parlare di Congo con forza, con energia, supplicando tutti voi di rivolgere la vostra attenzione a questo martoriato paese e di non lasciare i congolesi soli come lo sono stati in questi ultimi 13 anni. Rompiamo il silenzio, aiutiamo il Congo, ma soprattutto aiutiamo i bambini che sono il futuro del Congo.